Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a Giorgia Meloni, grazie per essere venuta in studio, nonostante un raffreddore formidabile, però è stato veramente molto, e con lei parleremo di tante cose, parleremo intanto del, dobbiamo parlare in qualche modo del vaccino, lei non è molto favorevole, il vaccino ai bambini, o è favorevole al super green pass, parleremo anche di questo, ma parleremo anche di tanta politica, cominciare dalla legge bilancio che non le piace, il Quirinale, eccetera, poi nella seconda parte invece parleremo con due insegni, docenti, il presidente dei pediatri italiani, il professor Bassetti in Genova, proprio della, i pediatri italiani sono favorevoli alla vaccinazione e parliamo anche di questa variante Omicron che ha fatto tanta paura, però dico toscando ferro finora e non ha fatto danni perché tutti stanno bene, tutti quelli che sono presi, insomma piccolissimi sintomi, mentre la Germania sta, ecco, cominciamo da questo, la Germania, la Merkel oggi ha detto, ha l'Italia se stessi come l'Italia e annunciano il lockdown per i non vaccinati e il green pass sostanzialmente obbligatorio, insomma il vaccino obbligatorio, il vaccino obbligatorio. Lei si era prendendo con la Funderland dicendo che non è roba della Commissione Europea, certo che non ha distanzio nazionale e decidono ognuno per sé, però non ha impressione questa decisione della Germania sul vaccino obbligatorio. Ma guardi mi impressiona no, però voglio dire noi prendiamo sempre una nazione a riferimento sulla base, diciamo così, a volte di quello che vogliamo dire, a volte di… in Europa ci sono molte esperienze diverse, c'è l'esperienza della Germania che finora ha deciso di non applicare misure di questo tipo, il che comunque vale la pena di ricordarlo perché a chi sosteneva diciamo che si potesse fare la campagna vaccinale anche senza applicare il green pass come l'abbiamo applicato noi, hanno detto che eravamo no-vax, lei capisce che anche la Merkel non è no-vax, sono scelte diverse e quindi intanto punto primo riportare un dibattito che è diventato ideologico a un dibattito di buonsenso come si fa nelle nazioni normali. però c'è l'esperienza per esempio della Spagna, la Germania ha dei dati di vaccinazione che non sono eccezionali, la Spagna ha dei dati di vaccinazione che sono superiori a quelli italiani senza aver messo il green pass come l'ha messo Mario Draghi. Però quando voi, lei e Alizio e anche Salvini, vi opponete al green pass, dice allora fate la vaccinazione obbligatoria, assumetevi questa responsabilità. Io ho detto un'altra cosa, comunque sarebbe stato più serio perché quello che manca secondo me in questo tema dei vaccini è che il governo metta nero su bianco di credere in quello che sta facendo. Il principio della vaccinazione obbligatoria che io non condivido e che non metterei e che secondo me non è necessario in Italia perché oggi noi abbiamo dei buoni dati di vaccinazione che attenzione avevamo anche prima del green pass perché la campagna vaccinale da noi è sempre proceduta ottimamente. Però il green pass ha dato un aiuto, dai. Sì, il green pass ha fatto due cose, da una parte ha dato un aiuto, cioè ha costretto delle persone, dall'altra ha radicalizzato la posizione di persone che no vax non erano e che di fronte alla confusione magari si sono preoccupate e che poi quando alla confusione si è aggiunta la perentorietà ne hanno fatta una questione di principio. Per cui io credo che questo dibattito sia stato estremizzato sbagliando, credo che sia stato estremizzato volutamente e credo che ci fossero modi molto più seri per ottenere gli stessi risultati senza, diciamo, dividere gli italiani su un tema così delicato. Punto primo, guardi, l'ho proposto anche ieri negli emendamenti di Fratelli d'Italia nella legge di bilancio. Perché il governo italiano non mette nero su bianco con una norma ad hoc che è pronto a indennizzare chi dovesse avere problemi legati ai vaccini? Perché questo è il modo più serio per dire agli italiani che sono scettici, credo in quello che sto facendo. Mentre quando Fratelli d'Italia ha portato questa proposta in Parlamento, direttore, è stata bocciata. E guardi che tra le domande che posso fare io, perché è il mio lavoro fare delle domande quando non sono convinta di qualcosa, è un governo che dice, tranquilli, ma non mi assumo responsabilità, è la seconda che allontana, non è la prima. Per cui ci sono delle cose intelligenti che secondo me si possono fare, una comunicazione chiara sui vaccini che non c'è stata anche da parte del governo. Guardi, per paradosso, alcune cose che ha detto il governo, compreso Mario Draghi, hanno favorito comportamenti sbagliati. Perché, per esempio, quando Mario Draghi, e io lo contestai, quando il governo istitui il Green Pass, Mario Draghi si presentò in una conferenza stampa e disse, le persone che accedono in un posto nel quale si accede solo con Green Pass hanno la certezza di trovarsi tra non contagiosi. Ora questo era falso. Lo sapevamo già che era falso. Questo che cosa ha comportato? Che le persone che si sono vaccinate erano convinte che non avrebbero in nessun caso colso il rischio di essere contagiate se si fossero trovate tra altre persone vaccinate. Questo si è saputo gradualmente però. No, non si è saputo gradualmente, mi scusi, perché noi avevamo già i dati di altre nazioni. E siccome ci sono altre nazioni che hanno cominciato a vaccinare prima di noi, e che non sono molto distanti da Israele e Gran Bretagna, se uno ha la pazienza di andarsi, che è quello che faccio io, a guardare che cosa sta accadendo, capisce da che parte sta andando il mondo, no? Quindi noi lo sapevamo già che la certezza non c'era. Quindi dare il segnale della certezza. La certezza dipende la certezza, la probabilità abbastanza remota. Ma probabilità e certezza già non è lo stesso concetto. Perché che cosa è accaduto? Che molte persone, immagino sia accaduto anche a lei, arrivano e dicono sono vaccinato e si tolgono la mascherina. Quindi ovviamente le persone hanno pensato ok, tutto risolto, io sono vaccinato e questo ha portato comportamenti e quindi una minore attenzione alle norme sul distanziamento, alle mascherine. È stata, secondo me, un atteggiamento sbagliato da parte del governo. Come è stato sbagliato per esempio dire, e io lo chiesi anche qui, sono Cassandra? No, sono una persona che fa delle domande sensate. Perché l'Italia porta la durata del Green Pass da 9 a 12 mesi? Io dissi, scusate, volete dire che la copertura del vaccino è 12 mesi? Siccome chiunque avesse letto i siti dell'AIFA, dell'EMA, sapeva che non si conosceva esattamente quale fosse la durata del vaccino, ma si stimavano i 6 mesi, 6-9 mesi, sulla base di quale evidenza è scientifica che il governo portava il Green Pass a 12 mesi? Dicendo implicitamente agli italiani che aveva una copertura vaccinale per 12 mesi. Lei capisce che invece di fare questa confusione... Per ragioni, credo, in tolleranza politica per non costringere le persone, ma adesso si sa che il vaccino dopo 5-6 mesi funziona molto meno e quindi per solo lo stimo... Oh, però a tutti questi temi... Ma lei è favorevole alla corsa alla terza dose? Magino di sì. Ma certo, ma voglio dire questo. Io voglio dire adesso, non c'è niente di me che sia contrario alla scienza o ai vaccini in sé, ok? Io non sono Novak, quante volte lo devo ripetere, sono vaccinata, secondo lei posso essere Novak? Lei conosce un Novak vaccinato? Mia figlia è vaccinata di tutti i vaccini obbligatori? No, di più, l'ho fatta vaccinare anche per vaccini che non erano obbligatori, ok? Questo non vuol dire che non si possano fare delle domande, perché questo fatto che in Italia chiunque facciano una domanda su cose che non tornano, signori, mi dispiace, non tornano come questa vicenda dell'indenizio che secondo me è un errore madornale, ok? Credo che lei sa che succederebbe un contenzioso mostruoso, perché prima di certificare quali conseguenze sono risarcibili, quali non sono risarcibili, chi documenta la risarcibilità, diventa, è un problema. Diventa, ma è un fatto di serietà, scusi, ma che vuol dire? Allora noi stiamo somministrando alla gente dei vaccini che non sappiamo che cosa comportano? No, presumo, no? E allora lo sapremo quali sono le reazioni avverse, non lo sappiamo oggi, lo sappiamo fra sei mesi, ma in ogni caso è un fatto di tranquillità per il cittadino che si vaccina, perché lei capisce che se il governo mi dice tu se non ti vaccini non puoi manco uscire di casa, ma sia chiaro che la responsabilità è la tua, cioè uno dice scusami fammi capire, no ma sono matta a dire una cosa del genere, ma lo dico per favorire la campagna, cioè nel senso credo che procedendo con un altro atteggiamento, che non è quello che stiamo vedendo, guardi me lo sento anche nelle molte trasmissioni televisive, sui quotidiani, per cui chiunque dica scusate ma zitto, sei un passo. Questo però il risarcimento forse si potrebbe chiedere con l'obbligo vaccinale, io ti obbligo a fare una cosa, se la fai e per colpa mia stai male, non è neanche così, intanto scusi il Green Pass è un obbligo vaccinale, perché io le comunico ufficialmente che noi abbiamo gente, Mario Draghi nell'ultima conferenza che ha fatto, ha detto una frase che secondo me è oggettivamente molto grave, speriamo che molto presto le persone vaccinate possano tornare con noi a far parte della società, una frase del genere. Di che cosa stiamo parlando? Siamo ancora una nazione nella quale i cittadini hanno dei diritti fondamentali o no? L'avessi detta io una frase del genere, lei sa direttore che cosa sarebbe accaduto, sarei stata proprio linciata, ok? Qui non ci sono cittadini che hanno diritti o cittadini che non ne hanno, purtroppo sta diventando così, si comincia a parlare di chiudo dentro casa, non puoi venire a Natale, gente che non viene invitata alle feste di Natale perché non è vaccinata, anche se ha il tampone che poi è una cosa che la legge ha garantito e consentito, per cui chi finora si è mosso con il tampone perché ha fatto una scelta diversa, consentita dalla legge, adesso viene trattato come se fosse una specie di paria, cioè questo accadeva in altre società e in altri tempi signori, non si può fare. Allora voglio dire, siccome purtroppo non è vero che è una libera scelta oggi quella del vaccino, cioè io guardo soprattutto ai ragazzi giovani, sui quali come lei sa ho sempre avuto i miei tubi come ce l'ho sui bambini, oggi un ragazzo di 12 anni, 13 anni, tu non puoi più fare sport, non puoi frequentare nessuno, diventa impossibile. Come vediamo adesso, questa è una posizione minoritaria nella sua, nell'opinione pubblica. Adesso è il lavoro in un po' di sondaggi, il noto sondaggio è Mattino Franco che è editorialista del Corriere della Sera. Allora vediamo subito che cosa rispondono gli italiani, il tuo campione italiani alla tua domanda sul cartello 5, eccolo qua. È favorevole il vaccino per gli under 12, per le persone, per i bambini sotto i 12 anni come deciso all'EMA, favorevoli 58%, contrari 25% e 17%. Quelli con figli invece, e li prevalgono i contrari, si è a porre 47% e 47% a 40%. E il cartello successivo invece è favorevole all'obbligo vaccinale per tutti, 68% a favore, 26% contrari. Chi sono? Allora, rispetto alla tabella di prima, sappiamo che quando si introduce la vaccinazione ci sono sempre delle resistenze, questo è capitato già con la prima dose, con la seconda dose, poi vedremo che c'è anche una sacca di resistenza per la terza dose e quindi è anche normale che adesso lo registriamo tra i genitori che hanno figli al di sotto i 12 anni, maggiore di 5, quindi in quell'età vaccinabile. C'è bisogno di più informazione, c'è bisogno di motivare. I favorevoli all'obbligo vaccinale invece continuano a essere tanti così come sono tanti vaccinati, i vaccinati superano l'80%, ma è da tempo che la percentuale dei favorevoli all'obbligo del vaccino è alta, non solamente negli ultimi giorni. Massimo, ha ragione l'onorevole Meloni a fare queste critiche sulla ventatezza, le dice di alcune frasi presenze del Consiglio. Devo dire, sono d'accordo sul fatto che c'è un tasso di ideologia eccessivo. Ho l'impressione che seppur in modo molto garbato anche l'onorevole Meloni sia vittima di questa ideologia, non perché sia Novax, ma perché quando parla di una sorta di regime dittatoriale contro chi non si è vaccinato, beh, le violenze le abbiamo viste più da parte di Novax, in certe manifestazioni di piazza, quindi su questo sarei un po' cauto. Io non ho parlato però di regime dittatoriale, mi perdono, io ho detto che non è corretto dire che oggi l'obbligo non c'è, perché l'obbligo di fatto c'è. Chiunque si azzardi a dire qualcosa viene subito redarguito e messo a tacere. E questo è vero, purtroppo. Beh, oddio, ho visto anche cose che sono avvenute dall'altro versante nei confronti di persone che appunto si erano vaccinate, cioè una propaganda opposta molto pericolosa. Ma detto questo, io credo che i dubbi siano legittimi, però bisogna fare un calcolo dei pro e dei contro e credo che questo calcolo vada assolutamente a favore dei vaccini e vada a favore del Green Pass. E se mi permette, lei mi diceva Angela Merkel ha scelto un modello, la Spagna un altro. Sì, però voglio dire, adesso non perché siamo solo dei provinciali, ma il fatto che la Germania riconosca che l'Italia ha fatto certe cose, credo che sia qualcosa della quale dobbiamo prendere atto in modo positivo. Se noi pensiamo ad altri paesi, tipo la Gran Bretagna, che prendevano in giro l'Italia perché aveva deciso il lockdown all'inizio e finché il primo ministro britannico non ha avuto il Covid sono stati su una linea di disprezzo nei confronti dell'Italia, beh, io credo che bisogna dire che queste campagne hanno avuto successo e sono campagne alle quali l'opinione pubblica ha risposto in modo molto ordinato e disciplinato. Quindi io non vorrei che dietro le sue giustissime obiezioni ci fosse un po' la tentazione di inseguire delle minoranze che in realtà, secondo me, confondono ancora di più di molti dei medici che in effetti hanno fatto anche loro molta confusione. Allora, si sta preparando? Sì, mi sono segnato un po' di cose perché, diciamo, questo è un tema molto serio che io sto cercando, dottor Franco, dall'inizio di affrontare con grande serietà. Ogni volta che cerco di argomentare le mie posizioni si sostiene che io abbia detto altro o che io lo faccia per un calcolo elettorale. Guardi che se io dovessi ragionare per calcolo elettorale mi converrebbe come sempre stare dove stanno tutti. il punto è che, e credo che questo mi si debba riconoscere, io non inseguo nessuno, io credo che la politica debba guidare la società, non inseguirla. Però per questo credo anche che la politica debba fare delle domande e dare delle risposte. Quando non è in grado di dare quelle risposte è un problema. Per cui io faccio quelle domande e cerco di avere o di dare quando posso quelle risposte. È il mio ruolo. Quello che io non posso fare è stare sempre dove, come fanno molti, dove è comodo stare, perché mettersi nella posizione di quello che dissente o che ha dei dubbi o che fa le domande, purtroppo comporta di essere oggetto degli strali del mainstream. Che è quello che a me accade ogni giorno, purtroppo. Ma anche il suo alleato Salvini però a volte ha avuto queste posizioni con dei distinguo molto forti rispetto alle decisioni del governo su questi temi. Questo io non lo so, però io posso dirle che... Come non lo sa? Non ho capito a che cosa si riferisce esattamente. Sui vaccini, sul Green Pass, su queste cose. Però secondo tema, io non so se una determinata confusione si faccia volutamente o no, ma essere contrari al Green Pass non vuol dire essere contrari al vaccino. E credo che questo non sia una cosa difficile da capire. Per cui quello che io continuo a non comprendere è perché ogni volta che si fa una critica a uno strumento che viene utilizzato per la campagna vaccinale piuttosto che un altro, uno debba diventare contrario ai vaccini. Perché non è una distinzione difficile. Perché io ho citato anche la Merkel? Perché immagino che nessuno sostenga che anche la Merkel è no-vax. Però anche la Merkel non ha usato il Green Pass come noi. E quando a me si diceva che ero no-vax perché ero contrario a questo utilizzo del Green Pass, io dicevo scusate, la Merkel, Johnson, Sanchez e tutto il resto d'Europa sono romax. Però adesso devo fare il lockdown. Sto dicendo un'altra cosa. Prima sto dicendo un'altra cosa. Fa il lockdown la Merkel, Sanchez non lo fa. Sanchez non lo fa. Quindi era possibile fare una campagna vaccinale che convincesse comunque l'84-85, quanto è ormai il percento della popolazione italiana a vaccinarsi non dicendo o diciamo facendo l'estremizzazione che secondo me, come dicevo, non ha aiutato la campagna vaccinale. È stata una scelta politica di estremizzazione. Presidente, mi scusi una cosa. Secondo lei, la campagna che ha fatto il governo ha avuto successo o no? La campagna che ha fatto il governo ha aumentato la quota di vaccinazione e ha, secondo me, radicalizzato quella quota che era invece scettica a vaccinarsi. Ma forse non crede che fosse necessario arrivare a questa... Io credo... Ha ancora una scelta molto chiara. Io credo che fosse... Sui rischi che si correvano a non vaccinarsi... Ma ho già risposto a questa domanda. Io credo che questi dati di vaccinazione e oltre si potessero raggiungere più seriamente e più facilmente facendo alcune cose che non sono state fatte. Primo, una informazione chiara. Scusi, dottor Franco, quando ci fu il decreto della Lorenzin che istituì 13 vaccinazioni obbligatorie per i bambini, lei ricorda decine di migliaia di persone in piazza? No. In Novax, in Italia, non erano le decine di migliaia di persone che in alcuni casi abbiamo visto in queste manifestazioni. No, mi scusi, nessuno l'ha vista. No, ma non male, ma voglio dire che il problema è un po' diverso. Erano una estrema minoranza, non significativa, non preoccupante. Ok? Cos'è che poi ha portato tante persone, anche vaccinate, a scendere in piazza in questo contesto? Ha portato un atteggiamento per cui da una parte si è prima fatta moltissima confusione. Non gliela devo dire io. AstraZeneca prima, prima 55, poi sopra i 60, la terza dose, il mix vaccinale fa bene, fa male, Moderna, gli RMNA piuttosto che i vaccini a vettore reaperale. Adesso ci dicono l'aumento delle pericarditi tra la società francese, l'AIFA francese, ha bloccato la somministrazione di Moderna, che è il vaccino che ho fatto io per intenderci, sotto una determinata età, sotto i 30 anni, perché ha aumentato le pericarditi e ce lo dicono dopo sei mesi. Cioè, lei capisce che è questo che la gente dice, scusate, fermi tutti, che sta succedendo? Ma non è che dirlo vuol dire essere contrario ai vaccini. Cioè, la medicina, scusi, dico solo questo e giuro che mi taccio, direttore, le medicine sono uno strumento, non sono un dio, non sono un'ideologia. Quando io prendo una medicina, leggo il bugiardino, ci sono sempre delle controindicazioni, come lei sa, che sono agghiaccianti. Chiaramente le devi tarare, no? Perché faccio una valutazione del rapporto rischio-beneficio. Così le persone normali valutano le medicine. Per cui se tu fai confusione su questi dati, è ovvio che persone, che non è che ce l'hanno con la scienza, ma dicono attenzione, che sta succedendo? E si allontanano. A quel punto che cosa conviene fare a te? Dare informazioni chiare, spiegare, accompagnare. Mentre se tu dici, ah, ti sei spaventato, non puoi uscire di casa. Il rischio che una parte si radicalizzi c'è. Per cui secondo me è stato sbagliato ed è stata una scelta politica che il governo ha fatto per non parlare di tutto quello che non stava facendo. Tg1, 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 vediamo subito. Di nuovo buonasera al pubblico di Porta Porta, la Presidente di Frade Italia, Giorgia Lomoni, a Massimo Franco, dittore lista di Corriere da Sera e a Antonio Noto, sondaggista. Parlavamo prima del telegiornale, il rapporto rischi-benefici. Io credo che Dona Lomoni, che peraltro è vicina a tante categorie che hanno sofferto il lockdown, sappia meglio di tanti che non possiamo permetterci di chiudere nemmeno per dieci minuti. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. Allora, è vero che tutti i provvedimenti che costringono qualcuno a fare qualche cosa hanno un seme autoritario, per forza. Tu non devi fare più questo. Tu devi, non puoi entrare, sì, eccetera. Ma se guardiamo al risultato finale, cioè al fatto che l'obiettivo è di non chiudere mai più, non crede che qualche sacrificio vada fatto. Non crede che saremo più protetti se tutti quanti si vaccinassero e lei è d'accordo. Ose invece di portare un tampone, la cui fragilità tutti conosciamo. Sappiamo che un tampone dura poche ore e non tre giorni, come si vorrebbe far durare. Se tutti quanti invece piarsi il tampone si convincessero a vaccinarsi... Guardi, purtroppo oltre che sapere che il tampone dura qualche ora, sappiamo anche che con il vaccino in teoria ti puoi contagiare. Quindi il problema qual è? Ma in maniera levissima. Scusi, se è in maniera levissima, se è in maniera levissima, dottor Verpa, spambiamo un problema. Perché noi abbiamo l'85% della popolazione vaccinata. Sì. Oh, e se lei legge i titoli di giornali di questi giorni, stiamo parlando delle stesse cose di cui parlavamo un anno fa. E' il Natale in sicurezza. E' no. E' no. E' no. Perché siamo spaventati all'idea. E' no. E' no. Siamo spaventati. Ciascuno di noi conosce delle persone vaccinate. Per carità siamo spaventati tutti. Però, quando è stato istituito il Green Pass, ci si è detto che il Green Pass è uno strumento di libertà, quindi vaccinatevi. Anche facendo il sacrificio che diceva anche se non siete convinti, vaccinatevi perché non parleremo più di rischi di chiusure. E adesso noi stiamo di nuovo, scusi, è il decreto del Super Green Pass, non è che se lo inventa Giorgia Meloni. Regioni colorate, bianche, gialle, rosse. Ci stanno ancora come un anno fa e non c'erano i vaccini? Sì. Ok. DAD. Però chiusure, non si parla di chiusure. Anche la DAD, visto che il Presidente del Consiglio... Ma scusi, non si parla di chiusure oggi. Un mese fa, due mesi fa non si parlava di DAD, non si parlava di regioni rosse. Adesso è arrivato l'inverno, siamo sempre... Cioè, diciamo, la tempistica è quella dello scorso anno. Si può arrivare a nuove chiusure? Non lo possiamo sapere. Oh, e arrivo all'altro tema che Fratelli d'Italia pone. Cioè, quando dicevo, noi abbiamo estremizzato la campagna sui vaccini, anche per non dire che non si stavano facendo altre cose, quello che Fratelli d'Italia sostiene da sempre, lei mi è testimone perché ci siamo anche stancati, cioè lei forse si è stancata ad ascoltarmi, speriamo gli italiani no, è che, beh, va bene la campagna vaccinale, ma non era la soluzione a tutti i problemi. Perché noi sapevamo che il vaccino non avrebbe fermato il contagio, per varie ragioni che conosciamo tutti. E quindi che cosa serviva a fare? Tutte le cose che si continuano a non fare. Allora, io ieri ho presentato gli emendamenti alla manovra finanziaria, ci abbiamo messo come Fratelli d'Italia un pacchetto di norme Covid, diciamo, di lotta al Covid, che sono, fondo per l'indennizzo, quello che dicevamo prima, 200 milioni di euro per il potenziamento dei mezzi pubblici. Una cosa che si è continuata a non fare mai. In parte sì, ma che regione sì? Gli unici 100 milioni, dottor Vespa, gli unici 100 milioni che sono stati stanziati per questo obiettivo erano un altro emendamento di Fratelli d'Italia, ok? Perché nessuno ha mai voluto fare niente per garantire il distanziamento in un luogo nel quale non c'è il ricircolo dell'aria, nel quale la gente tutte le mattine si stipa a centinaia, aerazione meccanica controllata nelle scuole, il modello Marche, adesso il governo ha preso e ha speso altri soldi per i banchi a rotelle, dico ma come si fa a procedere così? Che tecnicamente lei, dottor Franco, tecnicamente uno con il banco a rotelle si avvicina più facilmente, no? Quindi io la razza con il banco a rotelle non ho proprio mai capito, ma ovviamente utilità zero, aerazione meccanica controllata, quindi ricircolo dell'aria meccanico, che è stato fatto dal nostro Presidente della Regione Marche, per esempio Alquaroli e Nel Calassi, per buona parte la comunità scientifica dice, poi io non sono uno scienziato, ma leggo, no? Che è uno dei metodi più efficaci per evitare il contagio nelle scuole. È più complesso di dire facciamo le regioni colorate? Sì, però è il lavoro della politica e allora lo devi fare. Io ritengo abbastanza grave che lei dica che hanno fatti i vaccini per non fare le cose vere, io credo che i vaccini... Scusi, però anche qui perché mi continuo a mettere in bocca cose che non ho detto? Io ho detto che loro hanno estremizzato la campagna, quel dibattito che ho fatto prima. Lei ha detto che sono stati fatti i vaccini per non fare le cose vere che bisognava fare con il Covid. No, io ho detto... Scusi, se vuole riavvolgiamo il nastro e ce lo riguardiamo perché fino a prova contraria sono consapevole di quello che... Io penso di aver capito... Io non ho detto che abbiamo fatto i vaccini, ho detto che la campagna sul Green Pass è stata estremizzata nella comunicazione, ne abbiamo parlato 20 minuti, quindi il concetto immagino si capisca, per non dire, per non accendere i riflettori su quello che il Governo non stava facendo. Ho detto anche prima, la scelta di estremizzare questo tema è stata una scelta politica, l'ho detto tre volte, compresa questa, in questa trasmissione, quindi confido che la gente a casa mi capisca. E se è stato fatto, perché? Perché così, parlando solo tutto il giorno, come noi facciamo anche stasera, come si fa in tutte le trasmissioni televisive, come si fa in tutti i DG, come si fa in tutti i dibattiti parlamentari, del Green Pass, sì Green Pass, no Green Pass, Mega, Tetra, eccetera, non parliamo di tutto quello che comunque va fatto, compresa la messa in sicurezza dei confini, dottor Franco, perché anche qui noi stiamo vaccinando gli italiani, tu puoi uscire di casa, tu non puoi uscire di casa, le segnalano. Hanno bloccato i voli da una serie di nazioni africane, vi segnalo sommessamente che continuano a sbarcare in Italia centinaia di persone non vaccinate, che arrivano da nazioni non vaccinate, che probabilmente arrivano dalle stesse nazioni dalle quali abbiamo bloccato la partenza dei voli. Però gli fanno il tampone all'arrivo dai? No, gli fanno il tampone e si rifiutano, perché se fanno il tampone molto spesso si rifiutano, perché altrimenti possono essere rimpatriati e quindi sono stati anche qui edotti del fatto che dovevano rifiutarsi di fare il tampone che tu non puoi fare obbligatoriamente, per cui si rifiutano di fare il tampone e anche il vaccino, però quelli non si possono fermare, gli italiani dentro casa si possono chiudere, gli immigrati irregolari no. Allora, parliamo un po' di politica. L'annuario dell'Economist, che è la più prestigiosa rivista internazionale, a un certo punto, parlando dell'Italia, fa una piccola incorniciata, facciamola vedere, eccola qua, in cui alla fine dice, insomma, Giorgia Meloni può giocarsi il ruolo di prima donna che diventi primo ministro in Italia. C'è qualche fondamento? Cioè, lei aspira a diventare... no, nel senso, lei aspira a diventare primo ministro, ovviamente. Ma io guardi, chi mi conosce bene, e non lo dico davvero per, diciamo, finta umiltà, sa che non mi do mai un obiettivo di carattere personale. Il mio obiettivo di carattere personale è fare al meglio il mio lavoro, e non deludere le persone che credono in me. Ma se capita anche da Parasso Chigi, diciamo. Beh, chiaramente io lavoro per affermare le mie idee, e quindi la vera sfida della politica, e questo, insomma, penso, voi l'abbiate detto tante volte, è anche vero, insomma, parlare è facile, fare è più difficile. È un'ipotesi quella che Giorgia Meloni arrivi a Parasso Chigi? Certo che è un'ipotesi. D'ipotesi ce ne sono molte, credo che siano tutte abbastanza sul campo. Quando si vede che quasi tutti i cosiddetti grandi partiti sono sul 20%, lì c'è una gara a chi tra questi partiti potrà... E poi lo vedremo, insomma. Ecco, credo che il problema della Presidente Meloni sia tutto dentro il centrodestra. e là sarà da vedere se in realtà Salvini è così d'accordo a cederle il passo e posso dire anche, anche dalla traiettoria europea che prenderà Fratelli d'Italia rispetto a quello della Lega, perché io non ho capito se le vostre traiettorie europee tendono a convergere o a divergere, anzi mi pare che da quello che si vede questa regia che Salvini continua a ribadire sul piano europeo del centrodestra, gli alleati tendano un pochino a non... Ma però l'ha rivista un po' Salvini, anche vistosamente la sua strategia... Sì, però per esempio sul gruppo sovranista europeo non mi pare che Giorgia Meloni sia di quella idea e quindi mi sto chiedendo se in fondo con quale alleanza diventa eventualmente una candidata a Palazzo Chigi. Io credo che in Europa si debba lavorare per fare quello che il centrodestra ha fatto in Italia. In Italia noi alla fine con i partiti del centrodestra che hanno anche sfumature diverse, abbiamo messo insieme una maggioranza di persone compatibili, fortemente compatibili, sulle grandi visioni fondamentali, che però sono tra loro diverse. Sfumature diverse, due al governo e una all'opposizione, tanto sfumatura non è... Eh vabbè, però allora lei mi dice anche che la Lega è uguale al PD, no? Che vuol dire? Se il governo è un'unità nazionale ci sono fatte scelte diverse, io ho fatto una scelta, loro hanno fatto un'altra scelta, questa è una fase temporanea, però poi... Quando noi, per intenderci, semplifico, quando noi dobbiamo andare a scrivere un programma di governo sulle scelte economiche, sulle priorità sulle quali investire, sulla gran parte su come gestire l'immigrazione, cioè sulla gran parte delle questioni noi siamo compatibili molto più di quanto lo siano. Allora, vediamo con Vittoriano Abate e Stefano Serrazzini. Secondo me questo va costruito anche in Europa, cioè in Europa non è vero che l'unico scenario possibile è questo grande inciucione tra il PPA e il PSE, cioè tra il partito di centrodestra più grande e il partito di centrosinistra più grande che stanno lì a governare insieme come se non avessero una differenza. Secondo me si può costruire, ricostruire un bipolarismo anche in Europa e il partito che io ho l'onore di rappresentare, che è il gruppo dei conservatori europei, può essere fondamentale in questo discorso, diciamo di fare da tretunion tra quella parte del Partito Popolare europeo ormai abbastanza significativa che si è un po' stufata di andare al ricasco della sinistra, perché poi di questo stiamo parlando, basta vedere l'ultima circolare da von der Leyen sul Natale e si capisce da che parte va l'Unione europea, poi si è rimangiata perché era delirante oltre misura e quindi anche lì gli hanno dovuto dire, guarda, correggiamo, ma anche con i partiti che stanno alla destra di ECR come è il caso di Salvini, piuttosto che in quest'ottica secondo me, come io, non credo che sarebbe un valore aggiunto un partito unico in Italia, credo la stessa cosa in Europa perché poi le sfumature servono, le specificità servono, il che non vuol dire che non si possa creare delle alleanze, io lavoro per creare delle alleanze, ma non è, diciamo, omologando che si rafforza, per paradosso rischi di sostituire piuttosto che di aggiungere. Allora, vediamo Vittorio Annabate e Samro Saraceni su qualche differenza anche che c'è nel centro-destra. Divisi al governo, uniti nel progetto siglato a Villa Grande di una coalizione di centro-destra pronta a governare. Alleati con sfumature diverse, sottolinea Giorgia Meloni. Tutte le ricostruzioni su divisioni, liti e rivalità tra la leader di Fadeli d'Italia e il segretario del Carroccio hanno rassicurato i due e sono sbagliate. Linea comune Meloni-Salvini almeno fino a qualche giorno fa su urni anticipate dopo l'elezione del capo dello Stato. A differenza di Berlusconi che esclude questa ipotesi e si è detto pronto a sostenere Draghi anche dopo il 2023. Al coro Draghi Premier, fino al 2023, nelle ultime ore, si è unitò anche Salvini, lasciando perplessa l'alleata. Intanto il leader del Carroccio rinuncia la trasferta in Polonia per la convention dei sovranisti europei, chermessa alla quale Giorgia Meloni non avrebbe comunque partecipato, perché da tempo, contraria alla nascita di una nuova maxiformazione delle destre. Strappo evitato dunque, mentre Forza Italia tende la mano alla Lega per accoglierla nel PPE. Accantonate alla competizione per la leadership, la manovra di bilancio può essere l'esempio della collaborazione che il centrodestra deve trovare su temi come tasse e pensioni. Sulla riforma dell'IRPEF, Giorgia Meloni ha puntato il dito. Si continua a colpire il ceto medio, ma Salvini la tranquillizza. Non porterà nessuno a pagare di più, perché aumentano le detrazioni per i lavoratori autonomi. Accordo c'è sull'abolizione dell'IRAP per autonomi e partite IVA. Recuperare le risorse dal reddito di cittadinanza per aiutare famiglie e imprese è obiettivo comune degli alleati, insieme agli interventi sul caro bollette, a favore della riduzione del cuneo fiscale ed il rinvio delle cartelle esattoriali. Del Aghi deve rimanere alla presidenza del Consiglio fino al 23 o diventare a gennaio prossimo Presidente della Repubblica? 59% Presidente del Consiglio fino al 23, Presidente della Repubblica il 29%. Come si divide? Beh, gli elettorati qui un po' si scambiano, nel senso che la prevalenza di questi... L'onorevole Meloni è nel 29%, sicuro. E' anche una significativa parte del centrodestra nel 29%, però c'è anche una quota di elettori di sinistra in questi 29%, invece in questo 59% prevale l'elettorato invece di centrosinistra. Prima che rispondano l'onorevole Meloni, ma nel Partito Democratico che sta succedendo? Comincia a farci strada anche l'idea delle elezioni anticipate? Ma credo che sia una tentazione, c'è in alcuni partiti, anche nel Fratelli d'Italia, che è una tentazione molto aperta. No, ma la novità si dice. Sì, beh, ma io credo questo... Mettini, come ciò... Io credo questo, che si abbia la sensazione che in realtà quando si parla di Mario Draghi fino al 23, qualcuno dice fino al 28, in realtà ci sia un certo tasso di ipocrisia. Perché non si capisce bene se questo governo, che è un governo di unità nazionale, e poi non vuole, ad esempio, l'idea che Draghi vada al Quirinale, dopo che è stato eletto qualcun altro al Quirinale, il giorno dopo si ricomporrebbe in modo miracoloso la maggioranza attuale e si andrebbe avanti all'infinito. Quindi in realtà qualcuno bleffa, qualcuno sta bleffando e io credo che in realtà la tentazione e l'eventualità di elezioni anticipate sia lì, sia che Draghi vada al Quirinale, sia che Draghi non vada al Quirinale. Con una ulteriore variabile, io non escludo che se Draghi non va al Quirinale presto ci ritroveremmo senza Draghi e senza Mattarella. Questa è qualcosa che deve essere molto chiara, perché chi dice che... Che non viene molto valutata, ma invece è molto presente. In realtà questo è qualcosa di molto presente, perché se non c'è qualcuno che garantisca la possibilità di andare avanti con una maggioranza del genere, io credo che anche Draghi non ci sarebbe più. Quindi là bisogna valutare se ho più opportuno avere una garanzia di Draghi per sette anni al Quirinale, oppure illudersi che Draghi rimanga se al Quirinale si formano maggioranza di Sosa preelettorale. Allora, diceva esattamente, condivideva, ho visto. Beh, l'analisi è oggettivamente lucida, nel senso che credo che qui ovviamente intanto bisognerebbe capire da che cosa Mario Draghi abbia diciamo in testa, però quello che dice il dottor Franco è molto vero, se Draghi andasse al Quirinale, questo diciamo da osservatore lo dico, ok, se Draghi andasse al Quirinale è evidente che le elezioni anticipate sarebbero più vicine, non certe, perché io conosco l'attuale Parlamento e lo conoscete anche voi, è leggermente resistente, diciamo. No, si legano le sedie più che altro, ma proprio... Ecco, i banchi a rotelle li potrebbero essere utili una volta tanto, e quindi però diciamo sarebbe perché, perché è difficile per Draghi, figuriamoci per un altro, ok, in questo contesto, però è difficile anche per Draghi, già oggi io credo che, diciamo intanto i dati di consenso di Mario Draghi non sono gli stessi quando, come tutti, è arrivato al governo e le difficoltà nella maggioranza, mi pare che la legge di bilancio lo racconti bene, diciamoci la verità, non serviva Mario Draghi per fare questa legge di bilancio, e man mano che le cose andranno avanti, peggiorerà tragicamente, quindi è evidente che questa è una chiave di volta, sempre da osservatore, ragiono, e non dirò molto di più perché la verità è che noi, questo scenario è veramente complesso ed è complesso anche per la natura del Parlamento e per la tenuta che i partiti hanno, non so se vi ricordate quel film di Claudio Bisio dove lui a un certo punto viene eletto Presidente della Repubblica perché tutti votano Giuseppe Garibaldi, no? Cioè rischia di, può finire anche così, nel senso è un Parlamento obiettivamente molto balcanizzato, all'interno di, cioè io per carità posso garantire i voti di Fratelli d'Italia su una scelta che faccio coerente con la mia storia, ho il 5-6% della presenza parlamentare a fronte dei sondaggi che sono sicuramente altri, non so quanti altri partiti dell'attuale Parlamento possano veramente garantire la mobilitazione di tutti i loro parlamentari su un candidato e questo già complica molto il quadro. Sentiamo Antonio Polito, il tuo realista di Corri la Sera, che ogni settimana ci fa la sua visione della corsa inquirinale. Più si avvicina la data e più diventa chiaro che se si spacca la coalizione di governo nel voto sul Quirinale può cadere anche il governo e la legislatura. Ecco perché le ipotesi di un Presidente eletto a colpi di maggioranza da un centrodestra appoggiato dai renziani o da un centrosinistra allargato in formazione Ursula sembrano perdere peso. Avvenire allo scoperto è stato proprio il leader che aveva giurato di non parlarne fino a gennaio e cioè Enrico Letta rilanciando il metodo Draghi per il Quirinale. Ma allo stesso tempo i partiti stanno ancora cercando di capire se è possibile trovare un nome che non sia Draghi per realizzare il metodo Draghi, qualcuno o qualcuna che vada bene a tutti o quasi tutti. Sono cresciute e così le quotazioni di candidati come Pierferdinando Casini, il politico puro più trasversale che al momento ci sia in Parlamento e Marta Cartavia, la Ministra della Giustizia, che dopo essere stata la prima Presidente donna della Corte Costituzionale potrebbe diventare il primo capo di Stato donna della storia della Repubblica. Quelli che ti fanno per Draghi Presidente temono invece che queste manovre possano comunque indebolire il governo. Subito dopo l'elezione del Capo dello Stato e con l'avvio del lungo anno elettorale potrebbe finire ostaggio dei partiti con il rischio di perdere Draghi sia per il Quirinale sia per Palazzo Chigi. Avete visto che la conclusione di Antonio Pulito è la stessa alla quale siamo arrivati qui? Cioè c'è il rischio di perdere Mario Draghi sia per il Quirinale che... Beh al Corriere ci parliamo molto. Ma io in ogni caso dopo l'elezione del Capo dello Stato indipendentemente da chi sarà eletto al Quirinale porrò il tema delle elezioni perché se andasse Draghi ripeto diciamo adesso prendere un altro coniglio dal cilindro che oltretutto non è Mario Draghi signori facciamo finta di essere ancora una democrazia ok? Ma se anche rimanesse Draghi il mandato di Draghi è legato al mandato di Mattarella e lo scenario cambia per cui il tema va a posto ok? Quindi diciamo il scenario lezione anticipata è aperto comunque. Non è un automatismo insomma no? Non è un automatismo io sto dicendo... Il Capo dello Stato chiunque sia obbligato a fare un altro governo questo deve essere chiaro. A tutto è ovvio. Siccome il Parlamento ha un istinto di sopravvivenza come giustamente sottolineava la Presidente ha un istinto di sopravvivenza spiccato anche perché le elezioni vorrebbero dire che il prossimo Parlamento sarà ridotto di un terzo quindi questo credo sarà una spinta potente a trovare comunque un compromesso per andare avanti fino al 2023. Allora che questa resistenza ci sia figuriamoci se non lo so lo so benissimo che il Capo dello Stato sia obbligato se c'è una maggioranza su questo io non sono d'accordo l'abbiamo citato anche tante volte non c'è una prescrizione costituzionale che dica che il Capo dello Stato fa il notaio delle maggioranze del Parlamento anzi l'articolo 88 della Costituzione come voi sapete molto meglio di me lascia aperto lo scenario delle elezioni anticipate cioè dice semplicemente il Presidente della Repubblica ha sentito i Presidenti di una o delle due Camere le scioglie e l'interpretazione che dà l'abbiamo detto anche qui tante volte il nostro amico Mortati più grande costituzionista italiano è è proprio uno strumento che il Presidente della Repubblica ha quando le cose non stanno funzionando e voi capite bene che dire oggi che esisterebbe un'altra maggioranza litigiosa che non condivide niente di un Parlamento delegittimato perché c'è stato il taglio dei parlamentari con un Presidente del Consiglio che nessuno sa chi sia l'ennesimo cioè se non sono queste le condizioni se si ricostituisce l'attuale sarebbe difficile dire ma io non sono però non sono d'accordo su questo ci sia un obbligo cioè poi che guardi quello che ho visto del Parlamento della politica della Repubblica italiana non mi stupisce più niente lo dico che non accadrà soprattutto in questi due anni e mezzo non dico che non accadrà dico che non c'è un obbligo ma secondo lei Salvini potrebbe avere visto che bisogna andare alle elezioni la tentazione di sganciarsi alla maggioranza di non lasciare la sola solità all'opposizione con Draghi non credo penso che però io al posto suo anche se avessi fatto la scelta che ha fatto lui di andare al governo Draghi se oggi imponessero un altro governo con un altro presidente del Consiglio è una scelta che farei assolutamente allora andiamo a vedere le intenzioni di voto intanto avete visto ecco qua il numeretto meno 48 manca veramente poco all'elezione del capo dello Stato e noi che ne abbiamo vista qualcuna possiamo dire che questa è più complicata in assoluto poi in genere non succede mai quello che i cronisti si aspettano è un ingorno istituzionale obiettivo e c'è un Parlamento giustamente osservato così complicata mai allora fratello Italia è in testa secondo Antonio Noto insieme al partito democratico che rispetto a un mese fa che guadagna mezzo punto la Lega pure guadagna mezzo punto ma sta al 17 e mezzo per cento ne perde mezzo il momento 5 stelle 15 stabile a 4 e mezzo forza Italia stabile azione a 4 e mezzo perde mezzo punto Renzi con Italia viva e va al 2 e mezzo per cento e il resto invece solo vedete 1,5, 1,5 tutto più o meno insomma e altre quello che è interessante andiamo avanti è il consenso agli schieramenti cioè il centro-destra 48 per cento il centro-sinistra che oggi vuole essere unito il 39 e mezzo e poi c'è un 7 e mezzo per cento di come dicono io chiamiamo Renzi e Calenda altri di centro-sinistra diciamo poi loro vorrebbero anche un po creare una nuova area di centro quindi bisogna capire se poi questo sarà un obiettivo raggiungibile oppure no comunque in un sistema proporzionale questo 7 per cento può essere un po l'ago della bilancia l'ago della bilancia il 7 per cento secondo lei l'ago della bilancia in un sistema proporzionale secondo me la politica non è matematica e non bisogna mai ragionare come se la politica fosse matematica mai 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 e lo vedremo esatto a questo sto dicendo la politica non è matematica e lo vedremo all'elezione del capo dello Stato in cui vedremo che i partiti il suo no no il mio tiene anche perché sono per ragioni intuibili no scusa però tiene su che cosa perché Salvini ha detto questa volta abbiamo forse per la prima volta delle carte buone da giocare ed è vero la carta è Berlusconi la carta può essere assolutamente Berlusconi secondo me sarebbe una è un'ottima carta dopodiché però io ho anche detto al centro destra perché come lei sa non è Berlusconi non è non è una partita facilissima che bisogna hai detto di avere il piano B no che bisogna avere io ho detto che bisogna avere un piano B e forse anche un piano C se vogliamo contare lei sa che Di Maio scusi dico solo questo perché questa è importante ho chiesto al centro destra compattezza all'inizio e alla fine eh appunto scegliere insieme il piano B e il piano C esattamente cioè per me Berlusconi io da tifosa figuriamo cerco un presidente della Repubblica che difenda la sovranità italiana per cui Berlusconi questa cosa me la garantisce assolutamente i numeri non sono facilissimi è una partita che secondo me va tentata dopodiché però io chiedo al centro destra che poi se questa partita non va e bisogna aprirne delle altre non si vada in ordine sparso perché è vero che l'elezione del capo dello Stato può essere un modo per cementare questa coalizione o anche per... auguri presidente grazie auguri sa Di Maio cosa dice? dice devo parlare assolutamente con Berlusconi e dirgli che i suoi alleati lo vogliono fregare sul Quirinale e con chi ha parlato di grazia Di Maio? perché io non lo sento da mesi non so di chi parli dei suoi alleati non lo so lo deve sapere lei o meno ne ha parlato anzi no io ci ho parlato al telefono per invitarlo ad Atreio perché ci sarà anche Di Maio Atreio comincia il grande festival da quanti anni va avanti? 23 accidenti 23 anni di Atreio sui tempi elementari lei ha detto Atreio è l'unica cosa che è rimasta immutata attraverso 20 anni molto rocamboleschi della destra italiana perché non è una festa di partito è una festa di parte sicuramente comincia il... ma non di partito comincia il 6 dicembre dal 6 al 12 dicembre piazza Risorgimento Roma quest'anno Atreio diventa... nome evocativo esatto diventa mercato di Natale con tanto di pista di pattinaggio con tutto quello che serve per festeggiare il Natale l'avevamo scelto prima che l'Unione Europea facesse quelle circolari deliranti a maggior ragione per festeggiare le festività esattamente noi invece l'abbiamo chiamato proprio il Natale dei Conservatori e ci sarà tutto per esempio i viventi c'è Babbo Natale ci sono le mostre e c'è una settimana di dibattiti che come sempre vedono la partecipazione di tutti i grandi protagonisti della politica ci sono tutti i leader dei partiti un piccolo porta a porta un luogo di confronto un piccolo porta a porta nel quale persone anche molto diverse tra loro si confrontano sui temi grandi temi di attualità sulle grandi questioni senza problemi e senza filtri c'è il tema del conservatorismo che Fratelli d'Italia sta affrontando con una giornata domenica in particolar modo quella che poi chiuderò io con il mio intervento che si sviluppa anche a livello internazionale ci sono alcuni pensatori italiani prima parlavamo dell'Europa in questa edizione da Trejo per esempio oltre a alcuni esponenti europei del partito dei conservatori abbiamo la partecipazione di un esponente dei Tories inglesi Boris Johnson dell'IQ di Israeliano e Rudolf Giuliani repubblicani americani ex sindaco per ricordare che il partito dei conservatori europei è anche l'unico partito europeo che ha partiti affiliati anche al di fuori anche a l'essere della dimensione europea vi aspettiamo con la nota compagnia di Giro Meloni Vespa che interpreta anche stasera Osho ci sono via me posso sedere o preferisci non fatte vedere con quelli d'opposizione? è una vediamo la seconda a Silvio che gli regalamo? io direi di fargli giusto un pensierino tanto poi il regalo grosso io lo faccio a gennaio questa è tua a Silvio io e Tajani stavamo a pensare regalati a Dier Quirinale te ci stai o gli fai qualche cosa per cavoli tuoi? grande Valmaroli bene grazie grazie ancora per essere venuta in precarie condizioni fisiche grazie a voi e adesso parliamo un momento della vaccinazione dei bambini aprendo con un servizio di Daniele di Marzo grazie a tutti